benvenuti benvenuti cari amici di Samuviti in questo nuovo video naturalmente come sempre vi ricordo di distruggere il bottone like di iscrivervi al canale e per cui oggi iniziamo un'analisi come sempre con la crypto total market cap che attualmente si trova a 2.31 trillions ok nella giornata di ieri abbiamo raggiunto addirittura i 2.4 trillions che cosa mi aspetto mi aspetto che le action continui ok soprattutto sulle altcoin andremo a vedere dopo la bitcoin dominas e secondo me il mese di maggio sarà davvero un bel mese scopiettante soprattutto per alcune altcoin naturalmente voglio vedere anche che bitcoin ok prosegue la sua corsa perché ci serve assolutamente che bitcoin appunto faccia da traino anche per altcoin per quanto riguarda bitcoin dominas siamo a 46.22 quindi secondo me il prossimo target saranno i 45 sembrano imminenti potremmo addirittura arrivare a 40 penso però che prima o poi bitcoin ok riprenderà forza riprenderà tanta forza e attenzione che che potremmo anche tornare in zona 50 ok dal mio punto di vista andiamo a vederci bitcoin bitcoin molto molto bene perché nella giornata ieri guardate che bel bel balzo ha fatto da 53 mila siamo arrivati a praticamente 58 mila quindi abbiamo fatto un bel 10 per cento sembra che la giornata di oggi ok stia diciamo mantenendo ok i 57 mila quindi molto molto bene naturalmente questo andrebbe a fare molto bene anche per le altcoin per quanto riguarda l'analisi grafica vediamo che abbiamo perso la trendline ascendente ok questa qui però attenzione che potremmo ritornare all'interno di questa trendline secondo me avverrà ok perché vedo un bitcoin che a forza ha consolidato e dal mio punto di vista stanno anche sempre arrivando più istituzionali per cui attenzione al mese di maggio secondo me sarà veramente un bel mese e ne vedremo delle belle andiamo a vedere ethereum ethereum 3.451 dollari ok ethereum non sta mollando un colpo addirittura vediamo come ha rotto chiaramente questa trendline ascendente ok e quello che mi ero prospettato io era un piccolo rimbalzo su questa trendline è ripartenza ora ethereum non ha nemmeno rimbalzato ok e secondo me i 4000 dollari ok sono imminenti questa è un po la mia visione naturalmente la punta della mia visione non sono né consigli finanziari né di trading ma sono molto molto bullish ok su ethereum ma quanto riguarda binance coin, binance coin lo vediamo chiaramente in trendline ascendente secondo me andrà a camminare ok all'interno di questa trendline e secondo me anche qui i 700 dollari sono imminenti barra anche 800 dollari non vedo particolari shock che possano avvenire ovviamente se la lagarde non si mette o la jelen a fare diciamo le dichiarazioni particolari ok non vedo dei particolari shock sulle altcoin e su bitcoin andiamo a vederci polkadot polkadot molto molto bene secondo me polkadot attenzione che può addirittura rompere questa trendline ascendente sta tornando per cui monitorate polkadot se siete di trader secondo me già siete entrati ok con qualche posizione su polkadot guardate qui che scarico a 28 siamo arrivati a 39 e ora a un'olta mai a 48 secondo me polkadot tornerà senza alcun problema ok sui 48 dollari per cui anche qui potenzialmente un ottimo trade dal mio punto di vista ovviamente non sono né consigli finanziari né di trading io solamente vi segnalo che secondo me al momento è una delle altcoin più bull che possiamo avere ok sulle principali altcoin per quanto riguarda chain link nuovi massimi a 51 dollari la giornata ieri ora c'è stato un consolidamento che è a 57 dollari quindi molto molto bene anche chain link si trova all'interno di questa trendline ascendente e secondo me sono imminenti ok anche potenzialmente i 54 dollari naturalmente il principale oracolio non ha competitors perché anche band protocol insomma sta molto molto dietro per cui penso che chain link anche in questa burran potrebbe veramente avere una posizione dominante eccola qui eccola qui signori signore stellar lumens ok qua ci focalizzeremo perché io vi parlavo già di stellar secondo me movimento propulsivo rialzista arena rivo e infatti c'è stato ora siamo a 61 centesimi abbiamo avuto nella notte addirittura abbiamo raggiunto i 66 centesimi pensate all'interno del movimento 5 e dal mio punto di vista su stellar si prospetta veramente un movimento propulsivo rialzista se andiamo a vedere il movimento 1 2 3 4 guardate qui massimi crescenti ok quindi attenzione a stellar secondo me potremmo arrivare tranquillamente a 80 centesimi ok questa è la mia idea riproducendo questo movimento successivamente scarico spero ok a 69 quindi marillo il tamai che ci faccia da supporto e secondo me su stellar lumens deve ancora avvenire tanto ma tanto tanto ieri c'è stato l'accordo con visa quindi non cose da poco infatti vediamo come il prezzo che è schizzato ma secondo me stellar è insomma è visa cioè non è che un circuito qualsiasi ok parliamo di visa spero che ok ne parlate anche con i vostri familiari i vostri amici di questa cosa perché secondo me è una cosa rivoluzionaria ok secondo me la giornata di ieri è stata veramente rivoluzionaria per Stella Lumens ma ha ripassato il tutto un po' così ma secondo me è veramente stato un evento pazzesco e merita per cui di essere citato quindi Stella Lumens io sono bullish holdo siamo abituati a questi movimenti so che per chi è nuovo della criptosfera quando avete i dubbi meglio rimanere fermi ok seguire i video seguire formatevi studiate perché è essenziale se no su questi scarichi andate a perdere soldi perché naturalmente vi intimorite prendete paura e vendete e invece no Stella dal mio punto di vista è bullish naturalmente ci fa soffrire però io la tengo là ed è gran parte ok del mio portafoglio quindi secondo me 0.80 imminenti ok su Stella Lumens andiamo a vederci XRP XRP naturalmente non ha fatto quello che ha fatto Stella Lumens però attenzione ti avevo detto il mio target su XRP sono i 2.25 ok secondo me questo target resta valido ora voglio vedere diciamo che XRP abbia continuità nella giornata di ieri anche lei ha fatto una bella candela e voglio che rientri ok all'interno di questa trendline se XRP e ci è mancato poco eh nella giornata di ieri se XRP ritorna all'interno di questa trendline attenzione ok quindi a 1.75 può diventare veramente veramente interessante andiamo a vederci Soliana Soliana abbiamo fatto ieri il video con Saveria secondo me è un progetto veramente pazzesco e merita tanto ok secondo me ha un bel futuro quello che mi prospetto nel breve una possibile lateralizzazione che gli farebbe bene perché comporterebbe un consolidamento del prezzo e successivamente andare su io spero in questo sostanzialmente non vedo al momento diciamo che abbiamo perso l'elettralizzazione in linea ascendente che effettivamente Soliana possa avere un skyrocketing come ho avuto in precedenza ma più una lateralizzazione lateralizzazione per poi andare su ora quanto durerà questa lateralizzazione non lo so ok ma secondo me potrebbe durare un bel po' andiamo a vederci RIF RIF ancora progetto che ci fa attendere ok già da un po' da un po' di mesi ok perché è da gennaio ok guardate qui gennaio siamo al 31 dicembre è nata il 30 dicembre 29 dicembre diciamo sta lateralizzando ok ma l'ho fece anche Polkadot l'ho fece Uniswap quindi attenzione più progetto grande più tempo ci vuole questa è la mia idea su RIF ora sembra che questa tranne ascendente che si era formata stia facendo da supporto attenzione perché se andiamo a camminare all'interno di questa trendline quindi un movimento di questo genere attenzione che RIF può diventare esplosivo secondo me dal mio punto di vista il mese di maggio barra giugno sarà il mese di RIF ok per cui vedremo vedremo perché naturalmente ho sempre le mie dotazioni di RIF e vediamo un po' che cosa succede però secondo me rottura delle volte a mai è imminente andiamo a vederci Vechine Vechine molto molto bene perché siamo circa a 21 centesimi ok il prezzo attualmente sta lateralizzando lo vediamo chiaramente secondo me potrebbe lateralizzare ok ancora un po' e successivamente andare su secondo me anche in questo caso andremo a rompere il 0,27 perché il progetto è veramente un qualcosa di pazzesco dal mio punto di vista per cui fammi sapere anche tu nei commenti che cosa ne pensi o che di queste coine se vuoi che analizzo in particolare una coine ti ricordo di distruggere i bottoni like di iscriverti al canale e ci vediamo presto grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti